Allora siamo qui all'auditorium del Global Cloud Data Center di Aruba per la seconda edizione dell'Aruba Business Summit che ha visto sul palco alternarsi moltissime novità e abbiamo raccontato quello che ci aspetta di evoluzione del programma Parter per l'anno prossimo, nuovi servizi, tutta l'evoluzione della nuova piattaforma cloud che sta arrivando, un bellissimo intervento di Federico Buffa sulle Olimpiadi e poi i nostri due campioni di Aruba Racing, Alvaro Bautista e Nicolo Bulega che hanno raccontato qualcosa di loro e hanno partecipato alla premiazione di alcuni dei nostri partner. La giornata poi si è conclusa con il pranzo e con il tour ai nostri data center. Abbiamo presentato la nuova Cloud Management Platform, una nuova piattaforma di gestione cloud di Aruba semplice, veloce e flessibile. Con questa nuova piattaforma andremo ad erogare nuovi servizi. Il primo servizio è il Kubernetes as a Service che abbiamo lanciato ieri e quindi questo vi permette ai nostri partner e ai nostri clienti di andare sul mercato con tutto un programma di cloud native application e quindi un accompagnamento alla trasformazione digitale. Da questo permette di essere ai nostri clienti sempre più competitivi e per ridurre il time to market sul mercato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.